La prima di sei finali da vincere a tutti i costi per salvare la Lega Pro. L'Aquila affila le unghie in attesa della sfida alla maceratese. La truppa di Perrone è reduce dalla cosciente sconfitta nella derby pre-pasquale contro il Teramo e non può più permettersi passi falsi se vuole uscire dalla zona play-out. La tensione è altissima e in settimana la società aquilana ha provato a scuotere ulteriormente la squadra promettendo un premio ad ogni singolo calciatore in caso di vittoria. Un incentivo che la dirigenza rosso-blu è pronta a ripetere da qui a fine campionato. L'Aquila se la dovrà vedere però contro una delle squadre più forti del girone, la maceratese, che è in piena corsa a play-off. Sul fronte formazione potrebbero esserci sostanziali novità rispetto allo scacchiere tattico di Teramo. Il dubbio della vigilia è difesa a tre o difesa a quattro? Fino a metà settimana con il possibile tesseramento del terzino Chiri e Letti sembrava fatta per il passaggio alla difesa a quattro. Il mancato transfert dalla Romania però per l'ex terzino della Salernitana ha scombussolato i piani di Perrone che a questo punto sta pensando di tornare ad uno schieramento a tre con Pesoli, Cosentini, Piva, Maccarrone e Bruno a giocarsi le tre maglie a disposizione. A centro campo sono alte le quotazioni di riconferma per Danilo Bulevardi, uno dei più positivi nel derby. Mentre in attacco dopo settimane lontano dai riflettori sembra pronto a tornare protagonista Tommaso Ceccarelli. L'ex gioiello della Lazio sta tornando in condizione e Perrone potrebbe concedergli una chance importante sin dal primo minuto.